La pelle è cartina di tornasole del nostro benessere, membrana di protezione della nostra salute. Bellezza e salute procedono in simbiosi. Una bella pelle è una pelle sana. E dermatologia, medicina estetica e chirurgia plastica garantiscono un approccio multidisciplinare bionivoco. Avere un parco macchine, diciamo, quindi una ricchezza di laser come la nostra, ti permette di avere la migliore tecnologia possibile per ogni tipo di lesione da trattare. Inoltre, se un paziente anche afferisce all'ambulatorio dermatologico con qualche patologia che poi lascia esiti cicatriziali, è possibile anche rincuorarlo fin da subito, dicendo che alla fine della fase acuta sicuramente ci sarà cura anche della sua cute per migliorare i possibili esiti cicatriziali e ottenere il massimo ciò che si può ottenere. La pelle è davvero la cartina di tornasole del nostro benessere interiore e anche psicologico, se vogliamo? Sicuramente sì. Infatti esiste una stretta collaborazione tra me, i laseristi, ma anche gli psicologi, gli psichiatri, il nutrizionista, il ginecologo, l'endocrinologo, perché molto spesso dalla pelle noi riusciamo a capire che al di là della cute c'è una problematica che prende il paziente a 360 gradi. Noi lavoriamo in un connubio, diciamo, perché ciò che è patologia può diventare anche un inestetismo che si può correggere e allora questo ci aiuta, diciamo, a stare meglio nella nostra pelle, ad avere il gusto di piacerci e di, diciamo così, il benessere è qua, è nel concetto di salute, passa attraverso proprio la consapevolezza di stare bene fuori e stare bene dentro. Ecco, belli fuori e belli dentro ha proprio questo senso. Facciamo diagnosi, anche delle cose che non sono belle, abbiamo un indirizzo terapeutico immediato, perché il fatto di avere a stretto fianco il dermatologo e anche il chirurgo plastico possiamo fare tutto, diciamo, a 360 gradi e poi eventualmente completare là dove resti un inestetismo. Il laser è la mia passione e il nostro punto di forza anche di questa struttura. Il benessere e la salute passano per la prevenzione e la prevenzione soprattutto in formazione. Oltre a diagnosi e cura, i pazienti vanno formati e sempre di più i medici organizzano incontri di confronto con loro. Google per noi è diventato, per noi medici intendo, ormai il principale concorrente, se così si può dire, perché spesso i pazienti appena hanno anche solo il timore di qualcosa, o anche solo la curiosità, interrogano internet e questo diventa un problema perché leggere internet senza avere determinate conoscenze vuol dire ovviamente accedere a delle informazioni che non si sanno poi come filtrare ed elaborare. Di conseguenza è importante essere informati correttamente da professionisti, da medici in particolare.